Alcune donne ti lasceranno andare anche con altre donne o, per meglio dire, saranno disposte a dividerti con altre donne se tu esibisci le caratteristiche che vediamo nel video di oggi. Prima di cominciare però voglio ricordarti una cosa importante e cioè che ho anche un canale Telegram chiamato Giudio Lorenzo dove ti do informazioni che su questa piattaforma dove vedi ora non ti posso dare, quindi vienimi a trovare anche lì, ti lascio il link in descrizione. Bene, cominciamo con una premessa. Per ottenere il risultato di cui parliamo in questo video devi apparire come un uomo di alto valore ai suoi occhi. Molti uomini però pensano che l'unico modo per esserlo sia aver vinto la lotteria genetica, mentre c'è del vero in questo anche uomini normali possono raggiungere questo tipo di risultati fintanto che, come sempre, rimangano realistici nelle loro aspettative. Bene, cominciamo con le nostre cinque caratteristiche. Uno, devi dimostrarti sin dall'inizio e rimanere nel tempo l'uomo che si presenta come suo amante e mantenere le tue interazioni con lei leggere e divertenti nel tempo. Due, essere forte a sufficienza da essere chiaro sul fatto che vedi altre donne. Molto spesso questo rimane semplicemente un qualcosa nel non detto, ma qualora lo chieda, devi essere chiaro e disposto a perderla. Molto spesso però non ti preoccupare perché non c'è nulla a dire in quanto le donne sanno. Tre, devi avere le caratteristiche che per lei sono le più importanti ed attraenti e quindi essere visto come un alfa. Quattro, devi apparire chiaramente come di successo con altre donne. Questo di nuovo può essere fatto attraverso il non detto. Ripeto, le donne sanno, ma se tu vuoi essere il tipo di uomo che lei è disposta a dividere con altre, deve essere chiaro dai tuoi comportamenti che sei pieno di opzioni. Cinque, devi essere un campione a letto. Stop, non scappare subito. Primo, ricordati di iscriverti al canale. Secondo, vuoi vedere le tecniche di attrazione usate nel mondo reale? Infatti il primo passo per imparare a ottenere più successo con le donne che ti interessano è imparare come generare una fortissima attrazione in loro e ho creato un video gratuito dove ti spiego esattamente come farlo. In questo video ti mostrerò tre tecniche di attrazione che puoi imparare a usare subito e vari filmati di ragazze approcciate per la strada con cui utilizzo queste tecniche di attrazione con successo. Quindi clicca il link a destra per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.